E' l'ultima domenica dell'anno questa qua, l'ultima, l'ultimo culto di quest'anno che passa, che va via e ci prepariamo per il nuovo, vabbè? Il tempo va, lo dice un vecchio coro, ogni cosa ha una fine ma quello che non tramonta mai è il Signore, vabbè? Questa è una realtà importante, gloria a Dio, alleluia. Bene, l'ultimo messaggio è importante come il primo, ma all'inizio dell'anno è importante ascoltare il messaggio dell'anno che viene ed è importante anche ascoltare poi quello che conclude. Stamattina noi concluderemo questo anno, in questo ultimo culto, con una riflessione della parola del Signore che come sempre rimane il nostro metro, dove ci confrontiamo e dove speriamo di essere in linea, speriamo di essere in linea con la parola del Signore, alleluia. Il capitolo che leggerò stamattina è un capitolo un po' ferraginoso per la lettura e infatti mi farà aiutare per questi, non vi spaventate, 31 versetti, sì. E' necessario che li lega tutti, poi capirete nel corso della riflessione. Sono 31 versetti che leggo dal capitolo terzo di Nemia, Nemia che è riformatore, grande statista, grande statista e amministratore, partecipe di quella che è stata un'opera straordinaria che si è completata in 120 anni che è la ricostruzione della città, della vita politica, religiosa e spirituale, civile e spirituale di Israele dopo la pesante sconfitta della invasione babilonese. So che il vostro pastore ha fatto uno studio, perché lo vedo anche sul sito, uno studio molto particolareggiato, non so se è finito, mi sembra che è finito. E quindi la materia che tratteremo stamattina, una materia che per tutti quelli che hanno partecipato a questo insegnamento è abbastanza conosciuta, gloria a Dio, alleluia. Perché questo capitolo 3 leggo stamattina? Lo leggo perché ci sono dei contenuti molto importanti che non sembrerebbe, anche da come lo leggeremmo, i nomi che troveremo anche difficili da pronunciare, vero? Alleluia, gloria a Dio. Ma tutta la parola di Dio è tutta ispirata. Diceva carissimo Frello Bracco, anche i punti, le virgole, gli accenti, non è niente a caso. Tutto ha un significato profondo, sempre atto ad insegnare e a formarci. Allora dividerò questo capitolo in tre fasi letture perché mi farò aiutare, sia da cristiana e sia da Angelo. No? Ah, Angelo. Allora mi aiuterà. Angelo a quale? Beh, ci divideremo il capitolo allora. Visto che sono 31 versetti, tu leggerai fino al 15 e dal 15 poi io andrò alla fine. Va bene, Angelo? Inizia tu. Elia Sib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e vi misero i battenti, continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono e fino alla torre di Canaanel. Accanto a Elia Sib si trovarono gli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zaccur, figlio di Imri. I figli di Sena costruirono la porta dei pesci e ne fecero l'interlaiatura e vi misero i battenti e le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorò le riparazioni Meremoth, figlio di Uria, figlio di Akos. Accanto a loro lavorò le riparazioni Mesulam, figlio di Berechia, figlio di Mesezabel. Accanto a loro lavorò le riparazioni Sadoc, figlio di Bana. Accanto a loro lavorarono le riparazioni Iteocoiti, di cui più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore. Ioadia, figlio di Pasea, e Mesulam, figlio di Besodeia, restaurarono la porta vecchia e ne fecero l'interlaiatura e vi misero i battenti e le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono le riparazioni Melatia, il Gabbaonita, Iadon, il Meronotita e gli uomini di Gabbaon e di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Accanto a loro lavorò le riparazioni Uziel, figlio di Karaia, uno degli orefici, e accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Essi lasciarono Gerusalemme com'era fino al muro largo. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figlio di Kur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Accanto a loro lavorò alle riparazioni di fronte a casa sua Iedaia, figlio di Karumaf. E accanto a lui lavorò Catus, figlio di Kasabneia. Malchia, figlio di Karim, e Kasub, figlio di Patmoab. Restaurarono un'altra parte delle mura e della torre dei forni. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie Salum, figlio di Allokesh, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Canun e gli abitanti di Zanoa restaurarono la porta della valle. La costruirono, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Fecero inoltre mille cubiti di muro alla porta fino alla porta dell'etame. Malchia, figlio di Rechab, capo del distretto di Bet-Akerem, restaurò la porta dell'etame. La costruì, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Salum, figlio di Kolhoze, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della sorgente. La costruì, la coperse, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro del sebatoio di Siloe, presso il giardino del Re, fino alla scalinata che scende dalla città di Davide. Dopo di lui, Nemia, figlio di Azbuc, capo della metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni sino di fronte alla tomba di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito e fino alla casa dei Prodi. Dopo di lui, lavorarono alle riparazioni Leviti sotto Reum, figlio di Bani. Accanto a lui, lavorò per il suo distretto Casabia, capo della metà del distretto di Kelia. Dopo di lui, lavorarono alle riparazioni i loro fratelli sotto Bavai, figlio di Kenadad, capo della metà del distretto di Keila. Accanto a lui, Ezer, figlio di Joshua, capo di Mispa, restaurò l'altra parte delle mura di fronte alla salita dell'arsenale dell'angolo. Dopo di lui, Baruch, figlio di Zabbai, ne restaurò con ardore un'altra parte dell'angolo fino alla porta della casa di Eliashib, il sommo sacerdote. Dopo di lui, Meremot, figlio di Uria, figlio di Akots, ne restaurò un'altra parte dalla parte della casa di Eliashib fino all'estremità della casa di Eliashib. Dopo di lui, lavorarono i sacerdoti che abitavano le campagne circostanti. Dopo di loro, Beniamino e Casbo lavorarono di fronte alla loro casa. Dopo di loro, Azaria, figlio di Masia, figlio di Anania, lavorò presso la sua casa. Dopo di lui, Binui, figlio di Kenadad, restaurò un'altra parte delle mura dalla casa di Azaria fino alla svolta e fino all'angolo. Palal, figlio di Uzai, lavorò di fronte alla svolta e alla torre superiore che sporge nel palazzo del re che è sul cortile della prigione. Dopo di lui, lavorò Pedahia, figlio di Paros. Gli netinei che abitavano sulla collina lavorarono fino di fronte alla porta delle acque, verso oriente e di fronte alla torre esporgente. Dopo di loro, i tecoiti restaurarono un'altra parte, di fronte alla grande torre esporgente e fino al muro della collina. I sacerdori lavorarono alla liberazione al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di loro, Sadok, figlio di Imer, lavorò di fronte alla sua casa. Dopo di lui, lavorò Semaya, figlio di Sekanaia, guardiano della porta orientale. Dopo di lui, Anania, figlio di Selemia. Ekanun, sesto figlio di Salaf, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro, Mesulam, figlio di Berechia, lavorò di fronte alla sua camera. Dopo di lui, Malchia, uno degli orefici, lavorò fino alle case di Netinei e dei mercanti di fronte alla porta di Amifgad e fino al piano superiore dell'angolo. Gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra il piano superiore dell'angolo e la porta delle pecore. E abbiamo finito questo capitolo faragginoso nella lettura con tutti questi nomi difficili da pronunciare. Ma, come dicevo prima, come tutte le pagine della scrittura hanno tutto un significato, perché ispirato dallo Spirito Santo e sicuramente anche in questa pagina, in questa pagina difficile da leggere, per i motivi che abbiamo detto, c'è un contenuto spirituale di alto valore che riguarda la vita della Chiesa. proprio come se facciamo un esame alla fine di questo anno, in quest'ultima domenica, in quest'ultimo culto del 2016, 2015, in quest'ultimo culto nel quale abbiamo letto questa importante opera di ricostruzione. Alleluia. E' un'importante opera di ricostruzione, è forte e colossale per lo spessore che hanno dovuto mettere tutte queste persone per ricostruire un'intera nazione che era stata distrutta, che era stata arrasa al suolo a causa del peccato e della disobbedienza. C'era un messaggio in questo, un messaggio molto forte. Non so se sapete che il libro di Geremia, le Lamentazioni, è un libro che si deve leggere almeno due volte in un anno. Gli ebrei devono leggere almeno due volte in un anno e ci chiediamo il perché. Eppure quel libro è un libro drammatico, un libro non allegro. Perché due volte all'anno? Perché deve ricordare che Dio è un Dio santo, Dio è un Dio giusto, è un Dio d'amore, alleluia, ma è un Dio santo e giusto che non può tollerare il peccato. E che ogni qualvolta il suo popolo, sia individualmente o sia come gruppo, commette il peccato e si allontano da lui, Dio non lo tollera e interviene con i suoi metodi, metodi correttivi, a volte forti, forti quando ce n'è bisogno e ce n'è l'occasione. Ecco perché due volte l'anno gli ebrei devono leggere questo libro per ricordare. Alleluia, gloria al Signore. Intanto siamo davanti alla ricostruzione ed io ho letto insieme a voi che per ben quindici volte c'è la parola accanto. Poi nove volte dopo di lui e cinque volte dopo di loro. Quindici volte accanto, nove volte dopo di lui, cinque volte dopo di loro. Quello che abbiamo fatto e Angelo ha un po' ho voluto dare l'idea. Lui ha finito e io ho continuato. Se quando lui finiva io non continuavo la cosa si fermava. Abbiamo lavorato uno accanto all'altro. quindici volte troviamo accanto, 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 accanto. Poi troviamo nove volte dopo di lui, lavorò dopo di lui e cinque volte dopo di loro. Sembrano passaggi insignificanti invece nel contesto nel contesto sia storico del popolo di Dio ma anche nel contesto spirituale maggiormente spirituale hanno una importanza fondamentale perché rappresentano il motivo della continuità della continuità della storia di un popolo rappresentano il motivo della continuità della storia della Chiesa di cui noi ci freggiamo di farne parte alleluia gloria al Signore e il capitolo ci fa capire come è possibile come è possibile realizzare grandi imbrese come è possibile raggiungere grandi traguardi come è possibile ottenere dei grandi risultati quando si lavora in questa ottica spirituale gloria a Dio alleluia si parla tanto di unità si fanno conferenze si fanno tavole rotonde sull'unità se ne parla in tutte le maniere e se vogliamo stamattina abbiamo davanti una bellissima esposizione dell'unità che mette insieme tutte le persone abbiamo abbiamo notato anche un'altra cosa importante che i sacerdoti lavorano come gli operai i sacerdoti lavorano come gli operai alleluia le classi vengono a sparire si dilatano i duoli perché nell'opera di costruzione c'è bisogno di tutti quanti non squalificando il ruolo assolutamente no non squalificando il ruolo alleluia ma la praticità la praticità dell'operazione che serve ad edificare questi stanno lavorando per edificare edificare non per demolire per edificare gloria al signore alleluia per demolire c'è qualcuno che è bravo nelle demolizioni che è il nemico sappiamo abbiamo un nemico che è bravo nelle demolizioni lui ha un'impresa molto fiorente di demolire demolire tutte le cose spirituali demolire tutte le cose che si vogliono si portano verso Dio demolire tutte quelle cose che si protendono verso la causa del signore del vangelo demolendole in diverse maniere lui usa diverse cose diverse attività perché si possa demolire ma noi siamo chiamati alla costruzione alla edificazione i doni dello spirito vengono dati per edificare i doni dello spirito vengono dati per edificare edificare il corpo di Cristo la chiesa alleluia gloria al signore ma voglio anche andare più nello specifico e dire le varie classi che lavorano perché anche questo è importante alleluia e questo ci darà modo anche di dare uno sguardo uno sguardo in una maniera panoramica alle varie componenti della chiesa sia positive sia anche negative sì perché nella lista che abbiamo letto vi farò sottolineare alcuni che sono stati negativi eppure hanno partecipato alla costruzione hanno lavorato come gli altri ma sono stati elementi negativi nonostante abbiano lavorato alleluia gloria al signore allora ci sono dei promotori nove promotori ci sono i promotori sono quelli che iniziano gli iniziatori possiamo vederli anche sotto un altro aspetto i promotori quelli là che alle parole fanno subito seguito ai fatti perché spesso abbiamo tanti parlatori però la sapete tutta la storia dell'ammalato davanti ai medici è vero che discutevano sul male c'era una conferenza di medici e questo malato era lì stavo per morire e si discuteva intorno a come fare come dire e mentre i medici discutono l'ammalato muore capita spesso anche nel campo spirituale nel campo dell'accesa si discute si discute si discute davanti a una ciesa che forse ha bisogno di risvegli ha bisogno di riprendersi ma si discute soltanto poi in quanto vai a fare come ricordavamo venerdì c'è sempre di mezzo il mare gloria a Dio ma qui abbiamo nove promotori nove promotori che iniziano l'opera il capitolo è iniziato con Eliab Eliashib poi con i figli di Senna Joada ecco quando trovate questi nomi sono quelli che iniziano iniziano eh alleluia nove promotori il promotore è colui che inizia colui che vedendo la necessità la necessità la annuncia ma è il primo poi a mettersi davanti a tirare gloria a Dio alleluia in quello che faremo stamattina ecco ehm dichiarando le varie classi mentre eh ascolteremo quello che il Signore ci dice tu vedi dove sei in quale classe sei alleluia gloria al Signore i promotori sono quelli che ehm si caricano il peso eh e lo e lo incominciano a tirare vedendo la necessità vedendo la necessità di qualunque tipo si parla parliamo a 360 gradi parliamo a necessità spirituale parliamo a necessità pratiche ma parliamo anche a necessità economiche ultimamente ho avuto modo di leggere uno dei libretti del pastore Bracco dare 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 eh e l'ho letto ed è molto forte molto forte il pastore Bracco negli anni 50 e 60 faceva i conti in tasca ai suoi credenti non vi scandalizzate faceva i conti in tasca sì ma lo faceva sulla base della parola di Dio alleluia gloria al Signore e quindi noi dobbiamo essere anche in questo delle persone che danno al Signore il loro tempo che danno al Signore le loro energie che danno al Signore anche i propri averi amén gloria a Dio alleluia dobbiamo essere anche in questo e quindi i promotori sono quelli là che iniziano l'opera si mettono davanti c'è la necessità si carino del peso e vanno avanti gloria a Dio alleluia sapete che i promotori in questo senso si attirano spesse volte delle critiche delle critiche non sempre il promotore che inizia un lavoro viene viene incoraggiato viene aiutato molte volte deve farsi spazio anche dalle critiche ma gloria a Dio gloria a Dio per questi promotori perché alla fine hanno raggiunto l'obiettivo alleluia gloria al Signore gloria a Dio per i promotori che significa questo che la chiesa del Signore Gesù Cristo che l'opera nella quale Dio ci ha chiamati ha bisogno di promotori c'è bisogno di promotori e c'è bisogno di promotori che abbiano spalle abbastanza dure perché come abbiamo detto spesse volte i promotori sono colpiti dalle critiche sono colpiti dagli scoraggiamenti e qualche volta anche da qualche maledizione alleluia ma se la chiamate da parte del Signore se la chiamate da parte di Dio il promotore arriverà in fondo alleluia abbiamo bisogno di promotori qui nove promotori cioè noi persone che hanno iniziato e si sono trascinate gli altri ma non bastano i promotori non bastano solo i promotori sapete perché non si può lavorare da soli ieri mattina come faccio tutti i giorni ho mandato un piccolo passaggio ad alcuni pastori ho mandato anche al vostro pastore e che cos'era un detto di mudi un detto di mudi alleluia gloria a Dio è più è più importante far fare dei lavori a dieci persone che fare il lavoro di dieci persone è vero è vero e io scrivevo cari pastori dedicati ai pastori proprio così trovate subito queste dieci persone e assicurerete alle vostre comunità un futuro glorioso non vi dico la risposta del vostro pastore non ve la dico alleluia ma è così benché benché i promotori di spalle larghe duri forti resistenti resistenti ma alleluia Mosè un giorno ha dovuto sedersi e ha avuto bisogno di Ur e di Aronne abbiamo accanto ai promotori 15 collaboratori 15 collaboratori per le 15 volte che abbiamo ascoltato abbiamo letto accanto accanto collaboratori alleluia ci sono i collaboratori quelli che sposano la causa vedono il promotore e senza che il promotore gli deve fare conferenze per essere aiutato esortazioni a non finire senza questo eh da soli accanto lui finisce incominciò allora e le ascibi accanto alle ascibi lavorarono gli uomini di Gerico e così via ecco perché io davo enfasi quando dicevo accanto 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 il capitolo sta diventando meno ferraginoso vero adesso lo stiamo guardando in una maniera diversa gloria di alleluia accanto quanto è importante che ci siano vicino ai promotori i collaboratori pronti a intervenire che hanno abbracciato la causa e che quindi fanno sentire fanno sentire il calore del loro incoraggiamento ma anche della loro azione pratica perché in sintesi quello che abbiamo letto è tutto sulla pratica è tutto sulla pratica eh perché è importante la teoria è importante la teoria ma se rimane solo la teoria il malato muore il problema non si risolve se rimane solo la teoria gloria al Signore è importante la pratica e quindi abbiamo quindici collaboratori che lavorano accanto che cosa permette questo fatto che il lavoro continui non si fermi che il lavoro vada avanti alleluia si è fatto un lavoro si è arrivato fino a quel punto ora se non c'erano quelli che collaboravano il lavoro finiva là ma c'era l'obiettivo finale per ricostruire tutte le mura tutte le case e al centro poi il tempio per la vita spirituale quindi l'obiettivo non era soltanto fare le mura di cinta non era soltanto fare le case non era soltanto fare il tempio ma era completare tutta l'opera e per questo grazie a Dio per i promotori ma grazie a Dio anche per i collaboratori collaboratori che sull'esempio sull'esempio dei promotori danno il loro apporto determinante perché l'opera sia portata avanti con con spiritualità forza e discrezione alleluia gloria a Dio nel nel messaggio che ho mandato ieri ho messo naturalmente quel bellissimo passaggio di Paolo a Timotio quando dici studiaci di le cose che hai viste e udite da me promotore tu adesso devi fare una cosa per rendere continuo il lavoro spirituale che abbiamo iniziato affidali a uomini che siano attenzione fedeli e capaci scrivete queste due cose nei vostri cuori come un obiettivo per il 2016 un 2016 più glorioso più intraprendente più splendente nella vostra vita spirituale fedele e capace alleluia in genere in genere se scendiamo un gradino nella valutazione dal punto di vista umano le cose sono inverse si cercano persone prima capaci che hanno diplomi che hanno titoli di studio prima capaci e non si guarda la fedeltà capaci quando devi presentarti in un'azienda non puoi dire io sono sempre puntuale alle 8 e 30 verrò in fabbrica no che ci verrà a fare ti diranno non so fare niente allora non ci interessa la puntualità ci interessa la capacità questo è come ragiona il mondo è vero nel campo dello spirito le cose si capovolgono sempre ma perché perché si capovolgono sempre uomini diceva Paolo circonda di affidela uomini fedeli e capaci perché prima la fedeltà e poi la capacità semplicemente qui abbiamo uno strumento musicale è un'ottima tastiera è bellissima eh alleluia e adesso io voglio fare un canto vado l'accendo metto le mani sulla tastiera non suona è bella è bella vedersi però non funziona il Signore non ha bisogno della nostra capacità ma vuole la nostra fedeltà fedeli significa che quando ho messo le mani è venuto meno un qualcosa in cui la tastiera doveva essere fedele cioè lei deve suonare quello è il suo compito suonare è venuta meno nella fedeltà alleluia gloria al Signore che voglio dire ho bisogno di un collaboratore e al momento opportuno lo chiamo e lui lui non non c'è ma è capace ma è in grado di fare ma non c'è in quel momento che serve non c'è allora abbiamo bisogno di uomini fedeli collaboratori fedeli che quando il pastore il promotore mette le mani sui tasti funzionano funzionano così ascoltiamo la musica e possiamo cantare ma se c'è solo un aspetto esteriore esteriore e non c'è la fedeltà che me ne faccio della bravura che me ne faccio della vitalità del dinamismo di chi al momento del bisogno non c'è alleluia grazie a Dio qui c'erano gli accanto c'erano finito il lavoro cominciano gli altri finito il lavoro cominciano gli altri finito il lavoro cominciano gli altri i collaboratori di Ur di Aronne sono i pronti a sostenere a mantenere le braccia stanche le braccia che si fanno pesante alleluia gloria al Signore ma non vi accorgete che mentre parliamo e mentre stiamo discutendo intorno a questo fatto ci passa davanti ci passano davanti delle scene di entusiasmo di rumore di approvazione dei tanti sì dei tanti amen che sono stati proclamati nel corso della storia della chiesa e delle chiese e delle nostre comunità ma poi ma poi al momento necessario quegli amen sono risultati soltanto l'entusiasmo e l'emozione momentanea ma quando si è trattato di fare sul serio allora fedeli cerca uomini fedeli cioè che tu li trovi al momento che ti servono che tu li trovi al momento del bisogno alleluia gloria a Dio Signore la capacità io posso ogni cosa in colui che mi fortifica amen se siamo fedeli Dio ci rende capaci se siamo fedeli Dio ci rende idonei se siamo obbedienti e sottomessi Dio riversa su di noi la sua benedizione alleluia gloria a Dio e saremo veramente uomini che fanno sentire la loro collaborazione alleluia altra categoria poi sono i discepoli che sembrano che siano uguali ai collaboratori hanno la stessa funzione ma è un'altra categoria sono i dopo di lui e i dopo di loro abbiamo letto l'ultimo passaggio dopo di lui venne dopo di loro venne dopo di loro venne e ne abbiamo 14 volte scritto qui 14 volte alleluia chi sono i discepoli la parola discepolo nell'originale è colui che imita colui che imita l'altro ed anche qui dobbiamo dire le cose molto importanti perché funzione e lavoro bisogna che questi ultimi guardano attentamente quello che hanno fatto quelli che li sono davanti e non facciano né più e né meno né più e né meno nella nostra esperienza in cristiana abbiamo spesse volte incontrato quelli che vogliono fare sempre di più bravi pieni di volontà ma vogliono fare sempre più del pastore sempre più dell'anziano sempre più degli altri sembrano che siano più intelligenti che abbiano sempre qualcosa in più o quelli che fanno meno eh che potrebbero dare 30 e danno 25 non si è discepoli così discepolo è colui che imita l'aposto diceva quello che hai udito è imparato da me come io mi sono comportato come io ho fatto e anche come io ho insegnato come io ho insegnato stiamo assistendo a una metamorfosi nell'ambito delle chiese di cambiamenti però ci ricordiamo molte volte ricordo questo ma quando io sono venuto in questa comunità la persona che c'era prima colui che dirigevo insieme agli altri hanno fatto in questa maniera e noi ne abbiamo avuto un grande beneficio la chiesa cresceva si moltiplicava si operava benediceva ma adesso poi c'è passato del tempo questi qua stanno cambiando cambiando stanno cambiando alleluia o nel più o nel meno no i discepoli imitano perfettamente e guardano con attenzione quello che fanno quelli che sono davanti a loro e se hanno fatto l'impasto in quella maniera loro lo fanno nella stessa maniera e se la costruzione è stata fatta verso quei parametri loro hanno rispettato quei parametri un'altra parola forte di Paolo a Timotio predica la parola perché perché verranno i tempi in cui per prurito di udire molti ci sceglieranno maestri secondo le proprie voglie e noi ci aggiungiamo e li troveranno o come li troveranno certo che li troveranno ma tu predica la parola riprendi e sorti a tempo e a fuori di tempo alleluia perché facendo così salverai te stesso e quelli che sono con te alleluia gloria al Signore che che comando forte è vero il carissimo fratello Filippo qualche anno fa è andato con il Signore ha scritto solo un libro e l'ha scritto proprio ispirato al tema di predica la parola un libretto non so se voi l'avete letto io l'ho letto ce l'ho conservato gelosamente nella mia libreria predica la parola è un libro molto forte molto molto importante su questo tema proprio di predicare la parola predicare la parola alleluia ho letto qualche altro trattato sulla predicazione della parola di Martin Lloyd Jones un grande uomo di Dio che scrive il primato della predicazione ed è un libro molto tagliente che la fa breve sui bravi pensatori e su quelli che nel nostro tempo sembrano saperne di più di più ecco proprio come questi qua che hanno detto ma noi dobbiamo cambiare il nostro culto dobbiamo cambiare le regole delle nostre delle nostre adunanze ed anche ed anche il nostro impegno impegno deve essere un impegno nella politica dobbiamo essere più con il popolo dobbiamo essere più al centro della civiltà dobbiamo smetterla con il pulpito alleluia gloria al Signore è vero e voi vedete questa metamorfosi che cambia nel tempo le chiese che finiscono di fare le chiese al punto tale che nemmeno fuori fuori l'iscrizione non leggerete più chiese cristiane evangeliche non assolutamente leggerete altri nomi perché questa mentalità dice non dobbiamo dare l'immagine l'impatto della chiesa come qualcosa che sia austero che sia pesante no e allora cancelliamo il nome e quindi scriviamo qualcosa di più bello sala di incontro spirituale oppure ascolto libero e così via tutti questi nomi e poi e poi e poi attenzione la gioventù facciamo chiese di tutti i giovani sì perché la gioventù attira la gioventù è vibrande spiveggiante quindi quando le persone devono venire devono trovare i giovani quindi anche per i vecchietti per gli anziani alleluia gloria al Signore discepoli che imitano che ascoltano e che riprodugono fedelmente quello che hanno ricevuto che è la cosa più difficile sapete da fare se voi leggete attentamente le sette lettere di Apocalisse vi accorgete che la cosa che viene ripetuta è conserva quello che hai conserva quello che hai e anche il semmone profetico di Gesù era rivolto a questa preoccupazione negli ultimi tempi verranno dei falsi profeti che diranno il Cristo è qua il Cristo è là il Cristo è qua voi non ci andate ma conservate quello che avete ricevuto alleluia gloria al Signore è sempre la cosa più difficile da fare è facile riceverlo dal Signore noi preghiamo il Signore ci dà ma ci accorgiamo che è la cosa più difficile da conservare i principi dell'Evangelo i sani principi dell'Evangelo che sono attaccati attaccati fortemente da uno spirito liberale che è ritornato prepotentemente alla ribalta in questi ultimi tempi dove pseudi discepoli hanno detto dobbiamo cambiare alleluia gloria a Dio grazie al Signore che questi non cambiarono gli arrivarono a fare la grande costruzione fino alla fine benedetto sia il nome del Signore ma in questa lista ci sono anche altre due categorie di persone mi sorprenderà ma proprio al versetto 1 c'è Eliashib sommo sacerdote che alla fine del libro Nemia lo caccia fuori lo caccia via ha partecipato è stato il primo promotore ha dato il là ma Nemia lo cacciò fuori perché l'ho cacciato fuori perché questo qua era imparentato con Sambalat e Sambalat aveva un figlio Tobia nemico ed Eliashib che aveva partecipato ha ascoltato attentamente alla costruzione in un momento di una spiritualità perché ci sono di 120 anni per completare l'opera sono dei periodi anche di fermo di fermo che si sono bloccati per vari motivi è proprio uno di questi periodi dove c'è un calo nella spiritualità questo qua che cosa fa? Prende una delle stanze degli arredi sacri e ne fa la stanza di Tobia mi capite? ne fa la stanza è uno che è stato un promotore sommo sacerdote voglio usare un verso forse uno dei più forti che troviamo di Paolo quando scrive ai Galati voi sapete che la chiesa di Galati era stata fondata da Paolo con dei sani principi poi erano venuti dei bravi pensatori che ne sapevano tra virgolette più di Paolo e avevano detto no 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 se volete essere veramente salvati oltre alla grazia dovete farvi circoncidere e stavano convincendo i Galati si stavano facendo circoncidere Paolo scrive tuona tuona con la penna che è accesa di sal guardò gli dice ma come state che state facendo ed usa un termine forte forte fortissimo quantunque noi o un angelo del cielo vi annunciassi un vangelo diverso sia maledetto che forza vedete si mette pure in discussione quantunque noi alleluia gloria a Dio dobbiamo pregare tanto per i conduttori e per i pastori e per i promotori tanto dobbiamo pregare e stare sulle nostre ginocchia alleluia perché mandengono sempre inalterati i sani principi che hanno ricevuto da parte di Dio perché può succedere può succedere che anche un Eliashib sommo sacerdote perda la testa il problema è che se perda la testa ci sia qualcuno che lo mandi via alleluia quando Paolo lasciò Efeso dopo i tre anni del suo ministerio più straordinario lì nella città di Efeso chiamò gli anziani e disse una cosa molto importante badate a voi stessi al greggio che il Signore vi ha chiamati a pascere perché? perché sorgeranno dei lupi rapaci poi a un certo punto il discorso è ancora più forte tra di voi sorgeranno qualcuno che ha scritto e ha fatto il commento dice Paolo li vedeva proprio là erano anziani erano capi alleluia ma fra di voi alleluia gloria al Signore noi ringraziamo il Signore per gli uomini di Dio che ci ha dati amen amen ringraziamo il Signore per quelli veramente che hanno trasmesso un sano Evangelo ma chiedo perdono a Dio e perdono anche voi stamattina che se ci sono alcuni fra questi che ci stanno tramandando un Evangelo diverso fratelli e sorelle non dobbiamo per niente stare in silenzio non dobbiamo tapparci la bocca per condizionamenti o quant'altro anche per questioni familiari alleluia ma dobbiamo dire la verità in Cristo se vogliamo che l'opera vada alla fine perché l'obiettivo di questo capitolo è che la città sia ricostruita le case siano rifatte il Tempio si è ripreso e la gloria del Signore ritorna di nuovo a splendere con potenza nel suo popolo possiamo dire ammen alleluia e quindi nessun riguardo personale per nessuno se da questa fonte incomincia a uscire acqua amara gloria a Dio i ribelli ahimè i ribelli i tecoiti versetto 8 accanto a loro lavoravano le riparazioni i tecoiti di cui i più importanti non volvano sottomettersi a lavorare all'opera dei loro signori i belli pure hanno lavorato hanno dato la mano hanno alzato i mattoni hanno impastato la calce ma c'è uno spirito di ribellione c'è uno spirito di ribellione ed è uscito fuori proprio in questo momento evidentemente dovevano sottomettersi a un ordine a una direttiva è proprio là i lavoratori accanto abbiamo letto sembravano collaboratori sì con tanto ma hanno manifestato il loro carattere ribelle ribelle chi è il ribelle? è colui che non si sottomeste è colui che non sa sentire è colui che travalica le regole è colui che travalica gli ordini e ahimè ahimè spesse volte riesce a spargere questa ribellione nel mezzo del popolo alleluia i ribelli c'erano anche i ribelli questi tecoiti che sono descritti qui che in effetti sono quelli che si fanno prendere sempre dalla carne che agiscono sempre per la carne secondo i desideri della carne mai per i desideri dello spirito che creano un sacco di problemi e ci sono esistono alleluia gloria al Signore noi concludiamo questo discorso di stamattina con questo anno che finisce di questo ultimo culto qui eh lo concludiamo con questa riflessione lo dando benedicente in nome del Signore però ho detto prima che mentre si parlava e nel discorso che si faceva ognuno si deve inquadrare in quale posizione sei ora qui c'è presente lo Spirito Santo c'è presente lo Spirito di Dio ora io e te dobbiamo rispondere qual è la nostra posizione e sapete io posso nasconderla ai fratelli e alle sorelle ma se viene il Signore vicino a me e se viene lo Spirito di Dio vicino a me io non posso nasconderla se tu sei un promotore Dio ti benedica se tu sei uno di quelli che davanti alle circostanze e al bisogno prendi le reddini ti metti davanti pagando anche il costo delle maldicenze delle crisi che Dio ti benedica non ti fermare vai avanti perché il Signore sarà con te ti aiuterà e l'opera delle tue mani sarà benedetta alleluia gloria al Signore però ricordati di non essere e di non perdere la bussola e di rimanere fermo e quindi mettiti l'elmo della giustizia sulla testa e difenditi attraverso l'armatura da tutte quelle cose che potranno venirti da tanti e tanti amici a volte che potranno consigliarti in una maniera sbagliata ma rimani ferma la tua parola alleluia se tu sei uno che ha visto e che ti incida la collaborazione Dio ti benedica tu che metti le mani sotto le braccia stanche dell'uomo di Dio alleluia e le alzi e insieme a lui passi momenti di gloria e momenti di sofferenza Dio ti benedica alleluia il Signore ti benedica benedica la tua casa benedica la tua vita Dio ti benedica e se tu sei un discepolo che hai guardato attentemente a quello che ti è stato insegnato ai principi sani che hai ricevuto alleluia stai facendo questo loro Dio ti benedica e ricordati ricordati mantieni sempre nei limiti nei limiti che hai ricevuto non fare mai di meno e non pensare di fare mai di più gloria al Signore alleluia ma spero che nessuno che è in questa sala possa essere nella scia dei ribelli di quelli che offrono di quelli che danno la disponibilità di quelli che lavorano anche ma che sono lì sempre a fare guerra a creare disastri a promuovere eh critiche e a tagliare a tagliare a tagliare che tu non sia mai in questa categoria alleluia e se ci sei stamattina il Signore ti sta chiamando ad uscirne fuori e ad entrare nel campo perché abbiamo un ultimo pezzo da completare e lo vogliono fare anche con te e lo vogliamo fare anche con te se questa mattina ti umili davanti alla presenza del Signore e decidi di seguire la strada che il Signore ci ha indicato alleluia che possiamo tutti quanti protendere alla costruzione di questa testimonianza meravigliosa perché il Signore sta per tornare amen i segni ormai sono quelli che sono ci stanno dicendo che il Signore sta per tornare alleluia e dobbiamo prepararci prepararci a ricevere il Re di Gloria e se Lui torna l'anno prossimo ci possa trovare tutti quanti lavorando in questa maniera amen i promotori i collaboratori i discepoli che camminano camminano verso la gloria per ricevere il premio bene fatto fedele servitore ora ti aspetta la corona della vita eterna in Cristo Gesù che benedetti in eterno amen alleluia